Welcome boys and girls su Minecraft 1.17.1 in questa nuova serie, una vanilla in compagnia del nostro favoloso Dart Trimitus. Io direi di iniziare subito, iniziamo a prendere legno, me la sento buona questa vaniglia, non so perchè. Eh ma vabbè fai schifo, partiamo bene? No no no, lasciamela, lasciamela. Eh va bene, va bene, vado ad ammazzare qualcuno, non ti preoccupare il tuo turno arriva dopo eh. E mica ti lascio, e mica ti lascio al sicuro. No 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 eh. Ok, Pietro. Pietro, Pietro. Pietro? Ferro! Eh, ma che c'è del rullo? Ah, con la nuova texture pack di merda. Oh no. Eh, non mi gusta le nuove minerali. Eh, quello è vero, quello è vero, sono brudi brudi. Ci sono i pesci. Ma è se ci sono i pesci. Il pesci, pesci, pesci. Il pesci. Il pesci. Ti do... Un'expansion. Tiè, 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 tiè. Eiii. Lo so, lo so. Un'amore di piera, piccone di piera, sapa di piera. Eh, la pietra la chiameremo Pietro. Ah, perché prima o poi torna indietro. Ci sono le tartarughe. Ah. Quelle sono molto utili. Crescono così in fretta. Ma cos'è che hai fatto per avere questo obiettivo? Fammi vedere. Pianta dei semi e guardali crescere. Ah. Ma... Ma... Ma da me si chiama... Cresce così in priesa. Ah. 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 Vieni qua, vieni qua. Grazie per la roba. Ma come la fai schercia? Che bondà questa roba. No, no, aspetta, tieni. Ah, guarda te. Tiè, 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 tiè. Ci. Tanti porci, vieni qua. Siculenti porcellini, porcio. Buoni porchi. Questa in realtà è l'intera famiglia di Peppa Pig in vacanza. Ovvio. Ah, ecco, quello era Nonna Pig, come si chiamava. Nonna Pavorco. Ah. C'è una strega, andiamola ad attaccare. No, ci farò il sedere, torniamo a casa. Che faccio? Ti torno a casa, ti torno a casa. Vieni, vieni, vieni. Ah, c'è un porco. Vieni. Facciamo quella macchina. La strega. Eh, mazzala. Buono che questo... Oh. Eh, madonna, quanto cavo. Oh, e quanto mi faccia sta strega. Strega bastiana. Per te sono la lama. Oh, ecco. Oh. Oh. Che ci ha dato? Eh, non lo so. Lo zucchero. Ah. C'è dato il zucchero. Il zucchero. Le presto tu? Eh, vai dentro casa. Prezzo. Oh, no, no, no. Ti chiudo dentro. Aiuto. Aiuto. Mi chiudo. Mi chiudo. Mi chiudo. Aiutami. C'è lo scheletro. Aiutami. E ho paura. E non so neanche dove sono finito. Ok. Ucciso. Ma rifugiamoci nella nostra beata casa. Ultramoderna anche. Ultramoderna, ventunesimo secolo. New week. Ok. Luce. Vieni. Attivo. Salve amico. Ho combattuto ferocemente con quei maledetti carboneta. Non hai fatto nulla. E infatti io ho combattuto. Contro la noia. Eh. Quello è il peggiorno amico. No. Qui. No, no. Non prenderle nulla. Non prenderle nulla. Non prenderle nulla. È incredibile. Abbiamo freddo. Abbiamo torciole. Ovvio. Io torciolo. Tu torcioli. E gli torciole. Ho trovato. L'ho trovata. Ok. Dalla. Come si chiama? Io ho trovato. Il carbone. Il carbone. Il carbone. Ho trovato carbone. Il carbone. Io la chiamo risorsa potente. Non sono mai stato così felice di trovare il carbone. Il carbone. Il meglio dei carbone. I carbonari. Ovvio. Lulù. E certo. Ah, ronna, lei quanto è andata in profondità? Eh, buono. Carbono. Eh. Caverna, caverna. Ah, no. Sorry, sorry. Vieni. Mamma mia quanto è caro. Eh, la pepe. Ma lei dov'è capo? Che non la vedo più tra poco. Eh. Non distruggermi la scala. Quanto è sceso in profondità. Vieni. 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 Capo, vuoi vedere dove sono venuto? Eh, ma vieni. 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 Aiutami intanto. E dov'è, dov'è questa miniera? No, no. È solo una. È tanto. Eh, ferro! Ferro, ferro! Eh! Buono. Che culio. Mamma mia quanto. Prendiamo... Eh, mi servono. Ma adesso vengo che devo... Fare un nuovo piccione. Ah. Questi piccioni che non durano. Eh, eh, eh. I piccioni piccionosi. Oh, però c'ho 35 di carbone. Oh, bravo. Grazie, grazie. Non hai idea di quanto me ne freghi. Boh. Da uno a uno, forse arriviamo a uno. Ah. Quanto ferro c'hai? E c'ha suibo. Eh... Probabile di sì. Perfetto. Aspetta, facciamo... Fare questo. E non prendere il ferro, che me ce lo tridiamo. Ah, bene, ma... Avrei bisogno di cibo disperato perché... Eh, sì, adesso... Sto facendo un po'. Vabbè. È incredibile. No! Questa è un mio! Eh! Comunism! Prova a prenderla. Me lo prendo, me lo prendo, assicurato. Eh! Ah! Allora, io mi prendo tutto il loro. Acquisiti... Acquisiti... Tecnologia. Lo vuoi il cibo? Ah. Quello sì, quello sì. Allora torna qui immediatamente. Eccomi. Ah. Come fai a dire torno subito? Dammi il ferro, su. Ah, bene, taglia. Ora è il cibo, ora è il cibo, eh. Era il gomo, eh. Uh! Salmone crudo. Sì. Lo sto... Ma come salmone crudo? Ma lo stavo facendo... Eh, freezer. Ok. Aspetta, ma è già finita la giornata. Oh! Oh! Ora, ora. Eh, ok, me lo hai dato il ferro. Minoo! Minoo! Non ti conviene andare a destra. Oh! Ho sentito una freccia! No! Mi stanno trapallando. Ah, buono! Scappo! 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 Faccio! Oh, come sta? Guardalo! 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 Sto morendo! Sto morendo! Morerò! Morerò! Ho un cuore e mezzo! Aiuto! 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 Veloce! No! Devo uccidere lo schelo! Perfetto! È morto! Ritorno in casa! Sono il coglio! Vieni qui! Vieni qui, Scarletto! Vieni qui! Io credo in lei! Io credo in lei! L'ho acceso! E infatti è perché ho creduto in lei! Non è vero, tu hai sperato che non arrivo, lo so! Mannaggia, come l'hai fatto a sapere? Mi chiamavano... El Magio! Ah... El Magio! Ma perché c'è un... C'è un creeper che cavalcava un ragno! Non far esplodere il creeper! Madonna quant'è! E tu c'è! Donate la da vagine! Va bebi c'è la... De creeper da una creeper da vagine! Tu c'è dello scheletro! Però lo m'ammazzare! No, eh! Sto morendo io! Ah! C'ho un cuore! Eh... Aiuto c'è un cuore! No! No! Eh... 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 Se puoi venire un attimo che ce l'ho! Eh... Lo sapevo! Non sei! Oh... Eh che buono! Ma che fai? Ehi babbo! Dai fai schifo! Ma allora fai schifo! Sì! Dove sei? Mori! Venga venga! Nell'altra isola? Sì! Aspetta non è un'altra isola giusto? Eh... Non è un'altra isola! Sì! Terraferma non sta giusto! Quando... Un'altra isola! Eh... Ma quando arriviamo sta dannata Terraferma! Mai! Abbiamo scelto! Abbiamo... Eh! Eh! Una cavernio! Caverno! Copper! 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 È inutilissimo! Però va bene! Copper! Eh... Ciappero! 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 Ciappero pure per te! Ammazzalo! Che sei forte! Oh! Che sono due! Non me ne frega! Ammazzalo! Aspetta! Sento slime! No! Quelli sono... Gli uccelli! Poi si chiamano i Batarang! I Batarang! I Pipistrelli! 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 Vedi che c'altro ferro! Eh! Quanto ferro! A sinistra! Sinistra! Prendi quello a sinistra! Qui! Oh, verre! Qui! Ah, eccola! Altro chappero! Altro chappero! Gli occhiali ti servono ancora, secondo me! Eh! Tanto uno vegli proprio no cazzo! Prendi pure il Chopper! Ah, va bene! Anche se non serve a nulla! Eh, serve per fare le casio! Belle, belle! Le casse che invecchiano! Si! Come la mia voglia di vivere! Oh, Creeper! Oh, Creeper! Uh! Ti farà esplodere il bastardo! No! Invece con me no! Ma muore! Oh! Eh, non muore! Eh, Quetala! Cosa? Ti vedo che sei qui! No! No! Ma io sto tornando qui! Ah! Eh, sarà stato il pipistrello bastardo! Sarà stato il vento! Sarà stato il vento! Sarà stato il vento! Il vento bastardo! Oh! Vieni tu e inizia ad esplodere il bastardo! Allora! Allora! Oh! Non ho più il torcere, hai tu? Ma non devi tornare a casa! Eh, certo che io torno a casa! Mica sono pazzo! Sì! Ah, ma lì! Bastardo! Sì! 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 Hai tutto! Ti stava aprendo! Hai tutto! Hai tutto! Sì! 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 Oh no! Vesac! Vesac! Dai, dai, dai! La vera! Migliera! Migliera! Dai che troviamo il diamante! Vieni! 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 Lava! Vedo lava! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! E qui troviamo il diamante! Superiamolo! Oh no! Eh no! Muovete! Muovete! Non farmi cadere, scusi! E distrugge il blocco! Va bene! Va bene! Va bene! Ola! Cerro! C'è un po' di cerro per me! Ma tanto non mi ti cade roba addosso! E che mi cade! E che mi cade! Tipo... Sta roba qui! Ah no! Questo è bello! Ma già non capisco più i nuovi blocchi! Aspetta! Questo è bedrock? No! Vedi! Allora perché hai detto che è bedrock? No! Io avevo capito che... Non mi raggiaio! Ah c'è pure sopra una miniera! Salutamela! Stavo quasi per morire! Ma c'è l'uscita? Sì! Dove? In alto? Sì! Ah sì! Però attento che c'è lava! Ok... E non salgo! E dai! Spostati! No! 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 A meggio te! E togliamo la lava però! Ok! Tolta? Sì! Ora aspettiamo che si faccia! Ma no! Ma santissimo! Quanto è alto! Che qui secondo me troviamo! Ah! Qui ci sono le cave nuove! Come le cave nuove? Sì! Dove non si capisce c'è uno cazzo! No! Avrei! Ma... Ma è tutto sott'acqua! Sì! Perché abbiamo trovato l'unico punto dove era pieno di acqua! Ma tu ti ricordi dove avevamo parcheggiato? Sì! Aspetta che prendo redstone! Altro ferro! Prendi tutto! Prendi tutto! Prendi tutto! Prendi tutto! Giamanti! 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 Vieni qui! Aspetta! Prima di distruggerli dove sono? Dove erano? Qui! Giamanti! Giamanti! Come fai? Abbiamo una parte! Siamo i figli! Sì! Sì! Aspetta! Levati! Attento che... Blocchi la strada! Che... Tanno nella labbra però! Vabbè! Vabbè! No! Qui! Ok! Ok! Blocca la tutta! Ok! E andiamo! Ciamanti! Oh! Adesso si che si fa per bene! E facciamo altri fai durante! Vediamo quanti! Uno! Ma... Due! Ah! Qua... Quasi non le valeva la pena! No! Due! Ci facciamo... Oh! Ci facciamo... Pulla! No! Una bellissima e fantasticosa! Sentiamo! Zappa! Una zappa in diamante! E mo' si che è bello! Ah! Hai tutta! No! Non morire! Ah no! C'è il... Mori! 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 Ora! Quest'episodio termina qui! Io con due cuori in mezzo... Sto morendo! Dart con quanti cuori? Quando dieci cuori è vita tutta piena! Perché? Perché mi ha ammazzato! Ecco! Spero che questo primissimo video vi sia piaciuto! Se così è stato lasciato un like, un commento, iscrivetevi al canale, attivate la cannellina delle notifiche su tutte, non su personalizzate! Così vi arriveranno tutte le mie fantasticissime notifiche che avrete voglia di cliccare e non discorrere! Hi boys and girls! Grazie! Grazie!